Buongiorno ragazzi, oggi è sempre il 25 del mese di novembre, allora fa un mese di Natale, allora, in relazione al video di pochi minuti fa, volevo montare la torcia O-Lite qui sull'altro lato, ma mi rimaneva scopona per l'azionamento, l'ho rimessa nel solito posto, va a coprire la torcia si può regolare in lunghezza una volta fissata la base, la torcia è molto piccola, guardate, la base si affianca all'attacco del quick della maglietta a sgancio rapido che è molto stretta e sottile, la base è piccola, arretrando la torcia riesco comunque ad azionarla facilmente con il pollice e quindi come vedete si interna perfettamente, sembrano fatti l'uno per l'altro, quindi ho rimontato la torcia sul suo lato dove era e solo leggermente, ma no, neanche, non è neanche più sporgente perché l'altezza è sempre quella, sotto la torcia come vedete sotto la torcia c'è l'attacco per la maglietta, la quale resta in posizione superiore, questo è tutto, breve aggiornamento, basta ragionarci un attimo sopra le cose, breve aggiornamento del video precedente